Pioggia, fango, vento e freddo fanno da contorno la gara fra logaritmo, rugby, Messina e da Cireale, rugby valida per la terza giornata d'andata del girone I di Serie C. La partita si è disputata allo stadio rugby Sperone di Messina, una gara difficile, poco brillante, quella disputata dai Leoni Granata, che cedono sotto i colpi dei Peloritani. La partita si sblocca alla mezz'ora del primo tempo con una punizione di Zanghi. Allo scadere della prima frazione di gioco arriva la meta per i verde e blu. Il secondo tempo inizia così come era finito il primo, Messinesi in costante pressione, Granata in difficoltà. Arriva un altro calcio di punizione e al quarto d'ora la seconda meta. Il punteggio finale di 22-0 viene confezionato quasi allo scadere della gara da un'altra meta. Mister Berretti a fine gara ha commentato dicendo siamo una squadra in costruzione con un potenziale enorme da sviluppare. Il percorso che abbiamo scelto è un po' più lungo rispetto ad altri ma più efficace e completo. L'obiettivo è amalgamare una squadra composta da giocatori competenti e capaci, quindi non ci demoralizzeremo e continueremo a lavorare con entusiasmo iniziale. Oggi non era per niente facile e comunque nessuno si è tirato indietro. Tutti hanno lottato fino alla fine e sono orgoglioso dei ragazzi. Dello stesso avviso anche Mister Nicotra che giunge in uno sport dove le esperienze e la maturità sono fondamentali, soprattutto in condizioni climatiche avverse come quello di Erne. Abbiamo commesso errori da principianti. Ha prevalso la voglia di fare risultato dei ragazzi di Messina ma nessuno improvvano i nostri giocatori che hanno lottato fino all'ultimo. La prossima gara si disputerà l'11 novembre sempre a Messina, sempre allo stadio Rugby Sperone ma contro la Rugby Union Messina.